Primato solitario in classifica, punteggio pieno e miglior difesa del campionato. Sono numeri che parlano inequivocabilmente e ormai definire sogno il cammino intrapreso dalla Virtus Cupello comincia ad essere riduttivo alla luce delle prestazioni sempre più convincenti in anellate dalla truppa rosso-blu che torna sul proprio impianto per cercare di allungare la striscia e mantenere a debita distanza le più immediate inseguitrici. La sfida casalinga col penne è teoricamente abbordabile visto il divario di punti che divide le due belligeranti, 14 per l'esattezza, ma il calcio non è una scienza matematica e l'imponderabile è sempre dietro l'angolo. Reparto d'attacco rosso-blu senza le vere bocche da fuoco Marinelli e Margagliotti, il primo out per squalifica e il secondo non al meglio della condizione fisica. I timori della vigilia sono presto fugati dall'atteggiamento dei rosso-blu in campo che mettono in pratica i soliti dettami del mister giocando praticamente a memoria nonostante la diversità degli interpreti. Al settimo colitto arriva la conclusione fuori misura al culmine di un ottimo fraseggio con Ruzzi. Pochi minuti dopo i ruoli si invertono e stavolta è Ruzzi a tentare la stoccata con D'Amico che limita i danni. L'estremo vestino è providenziale al ventiquattresimo quando si salva in qualche modo su una mischia furibonda scaturita da un tiro dalla banderina con Felice che non riesce a gioire da distanza ravvicinata. Il monologo rosso-blu si perpetua anche nelle fasi successive del primo atto con Troiano che addomestica il lungo rilancio di Felice e prova a piazzare la sfera nell'angolo più lontano ma il vantaggio dei padroni di casa è rimandato al 32esimo quando Conti griffa la segnatura con un raso terra chirurgico a limite d'area e sempre al culmine di un perfetto fraseggio collettivo dei suoi. Napolitano prova a mettere il risultato al sicuro ma la sua affiondata da limite si spegne abbondantemente a lato. La prima presenza significativa del penne dalle parti dell'inoperoso di Vincenzo si segnala al 38esimo ma lo stacco aereo di Capitan D'Addazio non riesce a sfruttare appieno la pennellata da fermo di Cacciatore. La seconda frazione si apre subito col botto che di fatto fa cominciare a scorrere i titoli di coda sull'esito definitivo della contesa. È l'ottavo infatti quando Conti perfezione raddoppio personale e dei suoi con un micidale raso terra in area che si infila nell'angolo alla destra di D'Amico. La capolista amministra il doppio vantaggio senza grossi rischi nelle retrovie e poco oltre la mezz'ora arriva la ciliegina sulla torta con il Tris autografato da Caniglia che ribadisce in rete da due passi sfruttando il tiro cross di Napolitano. Piuttosto tardiva la reazione pennese che si evidenzia sostanzialmente in due occasioni. La prima al 33esimo quando Cacciatore sparacchia sul fondo vanificando l'ottimo lavoro propedeutico di guerra tra i migliori per i suoi che si mette in mostra anche al 39esimo con una serie di serpentine azzerate da Di Vincenzo, fortunato poi sulla ribattuta del neo entrato del Biondo che sparacchia le ortiche. Settima vittoria consecutiva per la Virtus, sempre più concreta realtà e non più sogno di mezza stagione. Mister Carlucci, Virtus Cupello, Forza 7, inarrestabile e irrefrenabile questa squadra anche se mancano diverse pedine fondamentali ma il resto gioca a memoria, ormai lo spartito lo conoscono a memoria. Sì, questa è la cosa più bella di questa squadra che chiunque interpreta il ruolo sa quello che deve fare per un allenatore, la cosa più bella. Tanti giovani innestati anche in questa occasione e questo fa ben sperare anche per il futuro. Sì, sì, indubbiamente. Oggi sono entrati altri ragazzi nel 2004-2005, quindi questa è la linea, lo sappiamo, la società mi ha detto che questi siamo e non è un problema perché facciamo crescere i nostri ragazzi.